Ho scelto di inaugurare il mio impegno politico per il nuovo anno con una visita ispettiva presso la Casa della Legalità a Pier Santi Mattarella, di Isola Caporizzuto, teatro di un recente e deplorevole episodio pochi giorni fa. La struttura, affidata all'Associazione Valencia, dall'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità, è stata danneggiata dall'Andrangheta, che ha intenzionalmente attaccato il simbolico desiderio di riscatto di questa terra e della sua comunità. Personalmente ho potuto constatare i danni causati di questo vile attacco che al momento ha reso inaccessibile ciò che sarà un futuro centro sociale con biblioteca e aule studio, particolarmente dedicato ai giovani. Il consigliere regionale Ernesto Alecci ha dichiarato Oltre a esprimere la mia solidarietà ai rappresentanti e al presidente dell'Associazione Lobianco, ho voluto dare un segnale forte presentando contemporaneamente una mozione in consiglio regionale. La mozione sollecita la giunta regionale ad impiegare immediatamente, senza indugi, parte delle risorse destinate ai beni confiscati alla mafia per la ristrutturazione di questo edificio. Dobbiamo reagire con determinazione alla criminalità, sottolineando che lo Stato è presente anche in luoghi difficili e complicati. L'Andrangheta è ripugnante e va combattuta con ogni mezzo possibile.